ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi andremo a vedere un'altra funzione del plugin di magic bullet di redjunt ossia cosmo cosmo praticamente serve andare a sistemare le imperfezioni della pelle delle persone all'interno dei nostri video prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aviate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial bene una volta aperto il nostro premiere io ho importato questa sequenza di questa ragazza e dopo le andremo a vedere appunto come andare a migliorare il volto ossia più che il volto andare a migliorare la pelle di questa persona per farlo appunto abbiamo detto che usiamo cosmo di redjunt sempre del pacchetto magic di redjunt quindi andiamo su effetti io vado a scrivere cosmo come vedete ce lo da sotto magic bullet di redjunt quindi lo prendiamo e lo portiamo sulla nostra sequenza come vedete qua di fianco ci apre il pannello con tutti i parametri da andare a sistemare e la prima cosa che andremo a fare appunto è tramite questa paletta colori andare a selezionare il colore della nostra pelle quindi clicchiamo per aprire la nostra paletta colori clicchiamo sul contagocce e andiamo a selezionare un punto della pelle bene o male ottimale ossia col colore più naturale possibile io direi intorno a questo colore facciamo ok ora andiamo su show selection ossia ci fa vedere la selezione che siamo andati a fare se noi lo abilitiamo come vedete ci fa vedere le parti di voto che è andato a selezionare ovviamente possiamo andare ad aumentare diminuire questi questo valore sia sotto la selezione offset quindi possiamo andare ad aumentare l'offset della nostra selezione naturalmente in questo caso è troppo o possiamo andarlo a diminuire in questo modo io direi che il valore ottimale era quello che mi aveva dato di default il programma quindi più o meno in questo modo stessa cosa possiamo andare a variare la tolleranza della nostra selezione quindi clicchiamo sotto selection tolerance come vedete anche qua ci apre questo cursore dove possiamo andare ad aumentare o diminuire la nostra tolleranza io la vado aumentare leggermente mi porto più o meno su un 30 e in questo modo abbiamo la selezione della pelle della nostra ragazza quindi possiamo andare a deselezionare appunto la preview della selezione ed ora andremo a interagire appunto su quello che riguarda la pelle nella prima opzione ossia skin smooth possiamo andare anche qui ad aumentare quello che è l'effetto di uniformità della nostra pelle ovviamente più lo aumentiamo più ci va a uniformare come vedete i colori della nostra pelle se io adesso vado a fare uno zoom al 100 per cento come vedete c'è andato a uniformare il colore appunto che siamo andati a selezionare per la nostra pelle se noi andiamo a fare un primo dopo questo era il prima questo è il dopo ovviamente adesso risulta leggermente piatta come colorazione quindi possiamo andare a interagire sugli altri parametri che appunto ci servono per andare a non rendere così piatto il colore della nostra pelle quindi possiamo andare a dire di preservare di più i nostri dettagli come vedete in questo modo ce ne ha dati troppi quindi andiamo a cercare un giusto compromesso io direi intorno a un 24 che vada bene stessa cosa nel preservare il nostro contrasto quindi anche qui possiamo andare ad aumentare in questo modo o diminuire insomma fino ad arrivare al risultato più ottimale possibile stessa cosa possiamo fare appunto per la texture della nostra pelle quindi andare a aumentare quella che è la texture ossia sempre per andare a uniformare al meglio la correzione della nostra pelle e nell'ultima voce possiamo andare ad aggiungere quella po di granulosità appunto all'interno del nostro video che ci serve ancora per rendere ancora un po più realistica appunto la nostra pelle della persona come vedete più o meno in questo modo se noi adesso andiamo a fare un prima e un dopo come vedete il risultato è molto efficiente per ultimo qua di sotto abbiamo invece quello che riguarda la colorazione della nostra pelle qui abbiamo la correzione automatica del colore appunto noi possiamo andarla anche in questo caso ad aumentare o diminuire e qua sotto abbiamo invece la voce della skin yellow pink ossia ad andare ad aumentare il colore o verso il giallo o verso il rosa quindi se ci abbassiamo andrà verso il giallo quindi rendendoci molto verde la nostra foto e viceversa se lo alziamo ci spostiamo verso il rosa che ci rende molto più rossa la nostra pelle in aiuto ci viene appunto utile questo skin overlay ossia questa griglia che noi adesso se andiamo ad attivare come vedete ci compare questa griglia il valore ottimale è quando visualizziamo in tutto il volto la nostra griglia come vedete la griglia è di un colore arancione quindi noi dobbiamo portare il valore in modo vedete che la griglia sia bene o male visibile su tutto il volto della della nostra persona io direi che in questo caso vada abbastanza bene quindi vado a selezionare appunto lo skin overlay e se andiamo a fare un ultimo prima e dopo come vedete questo era il prima del nostro video e questo è il dopo come vedete è andato anche a un po' alterare quello che è il colore dei nostri capelli quindi volendo si può tranquillamente tramite le maschere andare a selezionare solo la parte del volto del nostro video quindi volendo possiamo selezionare una maschera ellitica andarla a posizionare appunto sul nostro volto in modo da selezionare solo la parte del volto come vedete qui adesso ci da l'effetto e qui no giusto per rendervi conto anche del prima e il dopo comunque questa è una cosa che volendo si può fare in modo da delimitare solo la parte del nostro volto io ora la tolgo e come vedete questo era il prima del nostro effetto di cosmo ossia ad andare a ripulire la pelle di una persona e questo è con il nostro effetto di cosmo bene questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial io vi ringrazio di avermi seguito vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto lasciate un like al video se vi è piaciuto commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti iscriviti al canale